E do il benvenuto a Marcello Gemmato, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia e candidato al plurinominale alla Camera. Buonasera e benvenuto anche a lei. Buonasera a tutti e grazie. Allora, siamo al rush finale ormai di questa campagna elettorale, pochi giorni. Possiamo rassicurare tutti sulla tenuta dell'alleanza di centrodestra? Beh, la tenuta, pensavo, fisica di noi candidati più o meno. No, quello è difficile. La tenuta del centrodestra sicuramente. Ora, è chiaro ed evidente che in una coalizione composta sostanzialmente da quattro partiti ci possano essere delle differenziazioni. E vive Dio, se la pensassimo o se i partiti di tutti e quattro la pensassero la stessa maniera, avremmo un partito unico e non quattro partiti diversi. Fratelli d'Italia si candida ad essere il primo partito. Lo fa con Giorgia Meloni, che è il leader, donna, che almeno nei sondaggi è data come prima. Lo facciamo con la responsabilità di chi pensa che dare un governo forte alla nazione sia in questo momento vitale per la stessa. Uno dei temi più dibattuti sicuramente in questa campagna elettorale è stato il reddito di cittadinanza. Voi avete già espresso la vostra contrarietà al reddito di cittadinanza, quindi le chiedo subito che farete? Lascerete indietro le fasce deboli? No, al contrario. Noi riteniamo che il reddito di cittadinanza vada rivisto nella misura in cui si debbano aiutare i poveri, si debbano aiutare le persone che non possono lavorare, le persone affette da patologie e le persone che sono realmente indietro. Dare al ventenne l'illusione che possa esistere il reddito senza lavoro è evidentemente un sogno che non si può realizzare, invece dare al sessantenne che è stato espulso dal circuito lavorativo e che con difficoltà si inserirebbe nello stesso uno scivolo verso la pensione, evidentemente si fa cosa è giusta, così come aumentare la pensione minima per gli invalidi, probabilmente è più giusto che non dare a un ventenne in piena attività fisica, lavorativa, di forza, l'illusione appunto di poter non lavorare e guadagnare. È chiaro che in campagna elettorale si amplificano ovviamente anche i contrasti e la dialettica da campagna elettorale, sicuramente però si è parlato di un allarme democratico con il centro-destra perché con voi al governo si calpesterebbero i diritti civili, questa è un po' la tesi portata avanti al centro-sinistra. E' una delle tante strambate tesi che il centro-sinistra a corto di argomentazioni porta avanti, segnalo che il centro-destra governa in 15 regioni su 20, in Lombardia, in Veneto, in Liguria, in Umbria, in grandi e civilissime regioni, senza che né i diritti civili né altri temi sentiamo parlare di fascismo, di tutto, ecco, quel tutto non si verifica laddove noi governiamo e anzi governiamo bene tutti quanti insieme e diamo soprattutto concretezza ai nostri programmi, al contrario di ciò che è avvenuto negli ultimi 11 anni dove ha governato il PD ed evidentemente se ci sono questi sondaggi positivi per Fratelli d'Italia e per il centro-destra significa che probabilmente il popolo è stufo di chi li ha governati fino ad oggi. Più assumi meno paghi, è questa la formula per incentivare l'occupazione? Sì, allora, molto semplice, al netto di mille bonus che si possono dare, se agli aziende si dice più assumi, più dai possibilità ai giovani di lavorare, più aumenti la forza lavoro, meno tasse paghe, evidentemente è un incentivo che si dà all'impresa da un lato per assumere, per migliorare le performance delle stesse e per dare, come dire, un legittimo lavoro ai tanti giovani, ai disoccupati che, ripeto oggi, non devono vivere nel miraggio del reddito di cittadinanza, ma devono vivere nella certezza di un posto di lavoro che possa dare anche dignità ai padri di famiglia. Caro Bollette, l'alta emergenza ovviamente di questo momento, bisogna immaginare anche una politica energetica di lungo respiro? Sì, Giorgio Meloni ha detto che il primo punto che affronterà, qualora dovesse diventare premier, è proprio quello del caro Bollette. Due parole però le dobbiamo spendere. Il caro Energia deriva dalla politica dei no, che fino ad oggi è stata portata avanti dalla sinistra. No al nucleare, no alle trivellazioni, no alla TAP. Registro che chiunque ricorderà il Presidente Emiliano, insieme a Barbara Lezzi, che a Melendugno dicevano che se ci sarà la TAP il turismo crollerà, avremo un disastro totale, dappertutto, parole apocalittiche, salvo poi verificare che la TAP c'è stata, che questo disastro ambientale non c'è stato, però il risultato qual è? Che al contrario della Basilicata, dove governa il centrodestra e gli indennizi portano ad azzerare le bollette, in Puglia TAP Piperlein era disponibile a dare degli indennizi al popolo pugliese per il fastidio reso, ma ad oggi non dà nulla perché ha speso tutto il bonus che doveva spendere in rincorse in giudizi, spese legali, spese di ordine pubblico che sono state determinate dalle proteste di chi all'epoca pensava che questo sarebbe stato il disastro del terzo millennio. Bene, oggi abbiamo perso un'opportunità e ripeto, questa politica del no ci ha fatto arrivare ad essere una delle nazioni più penalizzate rispetto alle altre per appunto il caro energia. La famosa flat tax, anche su questo vi siete tirati le critiche del centro-sinistra, è una tassa che aiuta soltanto i ricchi, ma ce la spiega? Ma allora, innanzitutto no, non va portata al regime, non penalizza i meno ricchi o non favorisce i ricchi per un motivo semplicissimo, esiste un tema di pressione fiscale all'interno del regime fiscale italiano, siamo una delle popolazioni che paga più tasse in Europa, peraltro questa elevata tassazione ci porta ad essere non competitivi in Europa, perché se un'industria estera deve impiantare un sito produttivo qui non lo fa, perché oltre la burocrazia pazzesca, oltre il costo elevatissimo della mano d'opera figurato, quindi determinato dai contributi, vi è anche un tema di forte tassazione, è evidente che con la flat tax si andrebbe ad abbassare la pressione fiscale per tutti e a rendere più equa la tassazione facendo emergere il nero. Fratelli d'Italia propone poi soluzioni fattibili, noi non proponiamo to cure una flat tax immediata, ma proponiamo una flat tax sul reddito incrementale, significa che se una persona dichiarava 100 e l'anno dopo dichiara 150, su quei 50 si applica la flat tax. Questo metodo consentirebbe l'applicazione della flat tax immediata, senza danni, perché il problema all'inizio dell'applicazione della flat tax è una zona bianca, nella quale evidentemente ci sarebbe uno scompenso nei bilanci, quindi immediatamente applicabile e con una forte emersione del nero, perché tutte le persone che oggi, anche in maniera difensiva, credono di poter fare del nero per, fra virgolette, difendersi da una tassazione elevata, non che questo sia positivo, ma è una fotografia reale, bene, con la flat tax incrementale si va sostanzialmente a far emergere questo nero ed aumentare l'incassato da parte dello Stato che può essere speso in termini sociali, andando anche ad avvantaggiare le classi sociali più debole che evidentemente da una tassazione più equa potrebbero trarne beneficio. Abbiamo ancora due minuti e mezzo, siccome in campagna elettorale ovviamente leggiamo tante promesse, se voi una prima cosa che avete detto quando siamo partiti in questa campagna elettorale così veloce è non venderemo libri dei sogni, tutte le proposte che faremo avranno una sostenibilità economica, perché credo che poi su questo si giochi davvero la partita per il futuro, si promette di tutto in campagna elettorale, però poi bisogna realizzarlo. Guardi, allora il tratto comune della proposta politica di Fratelli d'Italia e di Giorgio Ameloni negli anni è stato quello, coerenza, cioè gli italiani ci hanno votato per stare nel centro-destra e noi non abbiamo fatto fuitine, né colpidine, né con i 5 Stelle, siamo sempre rimasti lì coerentemente all'opposizione e poi abbiamo sostanzialmente ancorato i nostri programmi alla fattibilità. Se voi leggete il programma di Fratelli d'Italia non propone libri dei sogni, ma cose concrete. Giorgio Ameloni ha detto e dice agli italiani, a tutti quanti noi, ai suoi dirigenti politici, non promettete nulla che non possa essere verificato e fatto al governo, perché lei crede che questa nazione debba essere governata dal centro-destra, da Fratelli d'Italia e dalla prima leader donna e quindi noi non dobbiamo proporre nulla che non sia realizzabile e infatti anche forse penalizzando un attimo il consenso, perché avremmo potuto prendere ancora più voti rispetto a quello che potenzialmente nei sondaggi ci viene dato promettendo di tutto e di più, non stiamo promettendo niente di mira volante, ma cose concrete e serie, intellegibili. Io invito, evidentemente per motivi di tempo non ci riusciamo, ma invito a seguire il programma di Fratelli d'Italia, tutte cose concrete, con delle coperture e soprattutto con un tratto comune che è quello, il bene del popolo italiano. Noi vogliamo bene al popolo italiano e vogliamo in questo momento essere la cura delle tante malattie, dei tanti disagi che 11 anni di governi ripetuti di centrosinistra hanno portato alla nostra nazione. C'è un pericolo astensionismo anche in questa competizione elettorale, andando in giro lo avete avvertito o no? Sì, allora c'è chi pensa di esercitare il voto di protesta astenendosi dal voto, registro che non c'è nulla di più sbagliato, perché chi non va a votare non determina nulla, cioè non è che se si arriva al 30, al 40, al 50% degli astenuti le elezioni non valgono o si verifica che quei pochi che andrebbero paradossalmente a votare deciderebbero per chi andrebbe a votare, non andrebbe a votare. Che cosa voglio dire? Che così facendo noi potremmo avvantaggiare delle minoranze organizzate, andiamo tutti a votare al netto se si vota o meno Fratelli d'Italia. Giusto, assolutamente sì, perché è un dovere e dobbiamo secondarlo. Grazie a Marcello Gemmato, candidato alla Camera con Fratelli d'Italia, buona campagna elettorale per quel che resta. Grazie a tutti.